Un 74enne di 90 padovana ha perso la vita questa mattina all'alba mentre percorreva in bicicletta la strada che collega 90 a Stra. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone condotto da un 82enne di Pionca di Vigonza. L'impatto, particolarmente violento, si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La circolazione è stata interrotta per un paio d'ore.